Sportiva volley femminile, l'Imoco dei record sigla la 76esima vittoria consecutiva espugnando anche il campo di Scandicci. 3 a 1 per le campionesse di Conegliano che hanno perso il primo set ma poi hanno dato l'ennesima dimostrazione di forza nel chiudere la partita. 28 i punti di Paola Egonu, miglior marcatrice dell'incontro. Imoco tornerà già in campo mercoledì in casa, partita anticipata in vista poi dell'impegno nei mondiali di club. In classifica Imoco Conegliano conduce naturalmente con 27 punti su Novara 22.